Musica Allora, buonasera, Maurizio Rago, sono il presidente della Proloquo Durum Novum di Taranone da Sibari. Un ringraziamento per essere venuti qui questa sera. Abbiamo fatto la quarta edizione del Sagra dello Stiso. Abbiamo fatto anche con il gruppo Le Muse del Mediterraneo e in diretta televisiva con Ionica Radio. È stata una bella iniziativa da parte nostra, è la quarta che andiamo in onda. Siamo un po' soddisfatti del lavoro fatto, con l'aiuto del vicepresidente Smiriglia Enzo e con l'aiuto anche dell'amministrazione comunale. Un ringraziamento e ci vediamo l'anno prossimo. Ciao. Grazie. 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 Grazie.